Allora ragazzi in questa audio lezione invece vi parlerò delle idee della poetica di Giovanni Pascoli. Partiamo dalla visione del mondo. La formazione di Pascoli fu essenzialmente positivistica come diciamo dato il clima culturale che dominava negli anni in cui egli compie i suoi studi liceali e universitari. Una matrice presente nell'ossessiva precisione con cui nei suoi versi egli usa la nomenclatura ornitologica botanica e di impianto positivistico sono spesso le fonti da cui trae le osservazioni sulla vita degli uccelli protagonisti di tanti suoi componimenti poetici. Ma in Pascoli si riflette quella crisi della scienza che caratterizza la cultura di fine secolo segnata dall'esaurirsi del positivismo, dall'affermarsi di tendenze spiritualistiche e idealistiche. Anche lui insorge una sfiducia nella scienza come strumento di conoscenza e di ordinamento del mondo. Come per tanti della sua epoca che vivono la stessa crisi anche per lui al di là dei confini limitati raggiunti dall'indagine scientifica si apre l'ignoto, il mistero, l'inconoscibile verso cui l'anima si protende ansiosa, tesa a captare messaggi enigmatici che ne provengono non traducibili in nessun sistema logicamente codificato. Di Dio vi è in lui nostalgia ma mai possesso. Il fascino su di lui esercitato dal cristianesimo non attinge mai la sfera teologica della verità rivelata ma resta nei limiti del messaggio morale di fraternità e di mansuetudine evangelica. Tutto ciò ha dunque riflessi di grande portata. Il mondo nella sua visione appare frantumato però disgregato. Che cosa significa? Che gli oggetti materiali hanno un rilievo molto forte nella poesia pascoliana ma ciò non significa affatto che vi sia in essa un'adesione di tipo veristico all'oggettività del dato. I particolari fisici sensibili sono filtrati attraverso la visione soggettiva del poeta e in tal modo si caricano di valenze allusive, simboliche, rimandando dunque a immagini misteriose e affascinanti. Il termine preciso diviene come la formula magica. Perché è così preciso? Perché il termine preciso rimanda ad una formula magica che permette di andare immediatamente al cuore della realtà, di attingere all'essenza segreta delle cose. Dare il nome alle cose è come scoprirle per la prima volta, dice Pascoli, con occhi vergini e stupiti. Significa possederle intimamente, arrivare ad un'immedesimazione profonda con esse. Perciò data questa soggettivizzazione del reale e la precisione scientifica della terminologia ornitologica degli animali, botanica delle piante, può costarsi una percezione visionaria. Il mondo è allora visto attraverso il velo del sogno e perde ogni consistenza oggettiva. Le cose, infatti, sfumano le une nelle altre, si instaurano così legami segreti tra le cose. La conoscenza del mondo avviene attraverso strumenti interpretativi, non razionali, senza seguire tutti i passaggi del ragionamento logico nel cuore profondo della realtà. Tra io e mondo esterno, tra soggetto ed oggetto, non sussiste per Pascoli vera distinzione. La sfera dell'io si confonde con quella della realtà oggettiva. Le cose acquistano una fisionomia antropomorfizzata. Si caricano dunque di significati umani. La poetica, da questa visione del mondo scaturisce la poetica pascoliana, ciò descritta nell'ampio saggio Il fanciullino, pubblicato sul Marzocco nel 1897. L'idea centrale è che il poeta coincide col fanciullo che sopravvive al fondo di ogni uomo. Un fanciullo che vede tutte le cose come per la prima volta, con ingenuo stupore e meraviglia, come dovete vederle il primo uomo all'alba della creazione. Ed ecco dunque come Adamo, il fanciullino poeta, dà il nome alle cose e trovandosi come in presenza del mondo novello, deve usare una novella parola, un linguaggio dunque che si sottrae ai meccanismi della comunicazione abituale e sappia andare all'intimo delle cose, scoprirle nella loro freschezza originaria, rendere il sorriso e la lacrima, così scrive Pascoli, rendere il sorriso e la lacrima che c'è in ognuna di esse. Dietro questa metafora del fanciullino è facile individuare la concezione della poesia come conoscenza, a logica, pre-razionale, concezione che ha le radici ancora nel terreno romantico, ma che Pascoli ormai in direzione decadente e grazie al suo modo a logico di vedere le cose, il poeta fanciullino, senza farci scendere ad uno ad uno i gradini del pensiero, ci fa sprofondare immediatamente nell'abisso della verità. L'atteggiamento irrazionale e intuitivo permette di cogliere direttamente l'essenza segreta delle cose, senza mediazioni. Ed ecco dunque che il poeta, in una parola, appare come un veggente dotato di una vista più acuta di quella degli uomini comuni, colui che per un arcano privilegio può spingere lo sguardo oltre le apparenze sensibili e attingere all'ignoto. La concezione dunque della poesia è una poesia pura. Per Pascoli la poesia non deve avere fini pratici. Il poeta canta solo per cantare. Non vuole assumere il ruolo di consigliatore, di ammonitore. Non si propone obiettivi civili e morali. La sua è una poesia pura, assolutamente spontanea, disinteressata. Egli voleva abolire la lotta tra le classi e la guerra tra i popoli, come Virgilio. Il sentimento poetico, infatti, dà voce al fanciullino che è in noi, induce alla bontà, all'amore, alla fratellanza. E nella poesia pura del fanciullino per Pascoli è quindi implicito un messaggio sociale, un sogno, un'utopia umanistica e umanitaria, che invita all'affratellamento di tutti gli uomini, al di là delle barriere di classe, che li separano gli uni dagli altri. È un rifiuto della lotta tra le classi, che si trasferisce anche nello stile. Pascoli ripudia il principio del classicismo, che esige una rigorosa separazione tra ciò che è alto e ciò che è basso. Pascoli si attiene invece nella sua attività poetica e si propone come cantore delle realtà umidi, delle realtà dimesse. Scopre il loro valore segreto ed eleva le realtà più semplici alla dignità alta. Partiamo adesso in un altro audio di quello non tanto della politica, quanto delle raccolte poetiche. Le raccolte poetiche, finisco questo audio, sono, partiamo dal poemetti, raccolti una prima volta nel 1897. Successivamente avremo l'anno del fanciullino, 1897, quando appunto pubblica il fanciullino. Poi verranno pubblicati i primi poemetti e nuovi poemetti, rispettivamente i primi nel 1904 e i nuovi nel 1909. Si tratta di componimenti più ampi di quelli di Mirice, dal taglio comunque narrativo. Nei poemetti assume un rilevo dominante la vita della campagna. All'interno delle due raccolte si viene infatti a delineare un vero e proprio romanzo georgico. La narrazione è articolata in veri e propri cicli, che si basano sulle varie operazioni del lavoro, dei campi, la sementa, l'accestire, con due c, accestire, nei primi poemetti, la fiorita e la metitura nei nuovi poemetti. È dunque la celebrazione della piccola prività. Ma attenzione, il mondo rurale pascoliano è idealizzato, idillico e ignora gli aspetti più crudi della realtà popolare, la misera, la degradazione. La disumanità, diciamo, della lotta per la vita, che fanno sì che la campagna sia anche equivalente ad un altro tipo di società. Pascoli, questo non lo cita, si sofferma sugli aspetti più quotidiani, umili, ma anche questa precisione della nomenclatura non ha nulla di naturalistico. Al contrario, vuole ridare una, come dire, una freschezza originaria alla parola. Il poeta vuole mettere in rilievo quanto di poetico è presente anche nelle realtà umili, sublimando, cioè portando di su la loro dignità. Vi ricordo in primis, però, prima dei poemetti, ovviamente la raccolta Mirice, con la Y, Miri, Cae, Mirice. Il titolo latino è una citazione virgiliana, che rimanda alla quarta bucolica, in cui appunto il poeta Virgilio affermava questo. Non omnes arbusta juvant, umilesque Mirice. Non a tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici, o tamerici. Pascoli assume invece umili piante, le umili piante appunto, i tamerici, i tamerici. Com'è che cosa? Tamerici dunque piante umili, ma proprio come simbolo delle piccole cose che egli vuole porre al centro della sua poesia, e secondo i principi di quella poetica che di lì a qualche anno esporrà proprio nel fanciullino.